Il sindaco di Eboli Massimo Cariello ha indetto la consultazione elettorale per l'elezione del coordinatore del Consiglio del Forum dei Giovani che si terrà il giorno 11 ottobre 2018 dalle ore 9 alle ore 18 presso l'Aula Consigliare del Comune di Eboli. Coloro che vorranno candidarsi alla carica di coordinatore dovranno aver compiuto 18 anni di età entro l'11 settembre. Chi volesse candidarsi alla carica di consigliere invece dovrà aver compiuto 15 anni di età entro l'11 settembre. La scadenza per la presentazione delle candidature alla carica di coordinatore o consigliere è fissata alle 12.30 dell'11 settembre.